Tutti conosciamo molto bene la storia di Anne Frank e del suo diario, è stata raccontata in libri, al cinema, al teatro, in televisione. Qualche anno fa Ari Folman, il regista israeliano di Walzer con Bashir, ha trasformato il diario in una graphic novel e ora, pubblicato da Einaudi, esce un'altra graphic novel, scritta e illustrata in collaborazione con l'illustratrice israeliana Lena Guberman. In questo caso la storia di Anne viene raccontata da un punto di vista molto molto originale, cioè quello di questa ragazzina dai capelli rossi, ovvero Kitty. Kitty è l'amica immaginaria che Anne ha creato il giorno del suo tredicesimo compleanno quando riceve in regalo un diario e a Kitty, Anna confiderà tutti i segreti, tutti gli avvenimenti della sua vita durante i due anni trascorsi in clandestinità nell'alloggio segreto. Dov'è Anne Frank? È un libro veramente bello per le immagini, per la grafica, per la storia che viene raccontata e soprattutto per il messaggio che vuole trasmettere.